Per noi la collaborazione con la FENALP diventa fondamentale per poter portare le nostre istanze a enti comunali e sovracomunali in modo che l'unione fa la forza, quindi cominciare a ragionare di comparto, non più come singole imprese. Questo per prepararci già per la stagione 2024 per un futuro più prospero per il nostro Cilento. Oggi è un piacere avere qui a Merino di Camerota il nostro Presidente Marco Sanziviero, Presidente nazionale della FENALP. Per noi è un discorso già avviato un anno fa, all'intesa con la FENALP, tanto è vero che possiamo vantarci di essere stati tra i primi a capire la lungimiranza di fare gruppo, di fare rete e di avere un interlocutore unico con gli enti sovracomunali e comunali e così via. Il punto è uno solo, stare insieme, cercare nuove sinergie e collaborare soprattutto tra gli imprenditori. Questo è il focus e da qui nasce il progetto appunto della destinazione a Cilento. Il tour terminerà con l'incontro di Federal Travel Cilento dopo cilentoturismo.it e a seguire abbiamo anche intenzione di incontrare il mondo delle proloco, quindi l'associazionismo delle località e per finire di d'accordo col Parco Nazionale cercheremo di incontrare anche i singoli comuni che compongono appunto, rientrano nell'area del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. L'obiettivo è quello di concretizzare un documento unitario e condiviso che appunto elenca le problematiche che il comparto turistico vive nella nostra destinazione e cerca di proporre ovviamente delle soluzioni per superare quelli che sono gli ostacoli che da anni bloccano lo sviluppo dell'intero comparto.